Viene chiesto spesso, ma chi è già vaccinato deve continuare a prendere le stesse precauzioni rispetto a chi non è vaccinato, delle precauzioni a contagio e perché questo è così? Questa è una domanda che in effetti è molto frequente da parte dei cittadini. Allora dobbiamo ritornare un po' indietro a cercare di capire che cosa ci dicono le sperimentazioni, gli studi che hanno promosso i vaccini attuali all'uso clinico. Allora praticamente se prendiamo per esempio la sperimentazione Pfizer che aveva 44 mila soggetti reclutati divisi in due parti, una parte placebo e l'altra parte vaccino senza che nessuno sapesse che cosa riceveva in quel momento, quindi una classica sperimentazione in doppio cieco, è stato detto a queste 44 mila persone guardate se nei mesi prossimi svilupperete una sintomatologia febbre, mal di gola, perdita di gusto e olfatto, dolori muscolari, venite che vi sottoponiamo al test. Quindi nel corso dei tempi sperimentali sono venuti un certo numero di soggetti, sono state individuate 132 infezioni da SARS-CoV-2, aperti i codici, cioè rotta quella che era la cecità dello studio, cioè il fatto che non si sapesse se uno aveva ricevuto placebo o vaccino, si è visto che quasi tutte le infezioni erano in coloro che avevano ricevuto il placebo, per cui si è stabilito che evidentemente il vaccino protegge, però protegge secondo quale punto di vista, quale è il, diciamo, protegge contro lo sviluppo di forme sintomatiche. Verosimilmente in queste 44 mila persone ci saranno state numerose infezioni asintomatiche e in quanto tali queste persone non si sono evidentemente presentate. Quindi, cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo un vaccino che ci garantisce una protezione contro le forme, diciamo, manifeste della malattia, ma non sappiamo in che misura ci protegge dall'acquisizione dell'infezione. Non solo, ma se un soggetto vaccinato acquisisce l'infezione la domanda qual è? È lui contagioso o no? Abbiamo delle risposte parziali, nel senso che stiamo verificando infezioni asintomatiche in soggetti vaccinati, stiamo anche verificando che in, diciamo, un'impressione percettiva iniziale, che questa positività al tampone in chi è vaccinato duri molto meno, e quindi verosimilmente sarà anche un soggetto meno contagioso. Però può esserlo in teoria, può essere ancora contagioso, per cui la precauzione comportamentale rimane al momento la stessa e ci si riserva nelle settimane prossime, via via, che tutta una serie di realtà scientifiche verranno rese note, di capire qual è la contagiosità di un soggetto che, diciamo, contrae l'infezione nonostante il vaccino.